Ciao a tutti ragazzi e ragazze, il motivo per cui siamo riuniti oggi è per parlare di questo qui, del Close Up Foundation di Nabla insieme alla cipria, è la scatola mezza distrutta. Quindi era fondamentale che vi informassi, che io vi dessi una review onesta di questo fondotinta, perché sinceramente ve lo meritate e sinceramente volevo condividere la mia opinione con voi. Prima di parlare della cipria però vorrei parlarvi del fondotinta, il Close Up Foundation che io ho preso nella tonalità L20 Light. In realtà le tonalità, io lo sbocciate tutte, dai di Italy e Milano, le tonalità sono un po' particolari, cioè secondo me non coprono tutti i range di pelle chiara, perché per pelle chiare ne abbiamo quattro e considerate che l'L10 è molto chiaro e molto giallo, l'L20 e l'L30 si assomigliano, si differiscono semplicemente per i sottotoni, che non sono gialli, ma l'L20 viene descritto come neutro, l'L30 come rosato, infatti è un finish pesca, mentre l'L40 già risulta un po' troppo scuro per pelli pallide come le mie. Quindi anziché prendere un L10 che è molto chiaro, io ho preferito prendere un L20 che è un pelino, cioè non è più scuro, ha lo stesso tono della mia pelle, però ha un sottotono leggermente diverso, perché rimane un po' più neutro, non si nota tantissimo poi lo stacco una volta che io faccio il contouring, ovviamente il fondo è quello che io ho adesso, però comunque un pelettino si nota. Questi fondotinta si ossidano tanto, ciò significa che se sembrano bianchi e cadaverici, una volta che voi li swatchate, aspettate 5-10 minuti perché comunque si ossidano. Non si ossidano a livelli del Dior, che passa da una tonalità 1 a una tonalità 500 in un secondo, però comunque un pelettino si ossidano, quindi state attenti appunto alle colorazioni, nel caso voi vorreste provarle. Non parliamo tantissimo del pack perché credo che Mr. Daniel abbia delle convinzioni e i suoi prodotti preferiti li trasferisca dal punto di vista del pack nei suoi prodotti Nabla, infatti questo secondo me è esattamente identico a quello di Charlotte Tilbury e anche un pochettino il concept è molto simile, solo che è quello di Charlotte Tilbury che io ho a casa, è molto più leggero, molto più glow. Questo invece è un fondotinta che viene definito come futuristic foundation, wireless soft focus perfect complexion, che rimane un pochino luminoso dal finish semi-matte, ma adesso ve ne parlo bene. Una volta affrontato il problema della tonalità, secondo me la cosa più importante da dire è come lo stanno questo fondotinta? Ecco, io ho provato semplicemente due modi. La prima volta l'ho provato con un pennello, non l'avessi mai fatto nella vita, perché stendendolo col pennello si accumulava in tutti i pori, ma proprio un effetto brutto, venteva in evidenza le secchezze che non avevo, tutti i pori che ho purtroppo, senza mettere ovviamente una base di sotto, perché secondo me un fondotinta deve essere performante anche senza mettere un primer siliconico, altrimenti non avrebbe senso. Poi, se noi vogliamo migliorare la texture del fondotinta, se vogliamo andare a migliorare la dura del fondotinta, ok, ma per me non è fondamentale, anzi per me è importante che un fondotinta durante il corso della giornata io lo riesca a mettere anche dentro un primer e ne riservo magari l'utilizzo del primer a un fine settimana. In realtà questo fondotinta ha necessità di un primer, ve lo dico appunto e ve lo anticipo. Quindi per quanto riguarda il pennello, poi tra l'altro prima applicazione, ho detto oddio che cosa ho comprato, perché comunque è un fondotinta che non costa poco, costa 25,90 euro. E considerate che con lo sconto ho preso un Dior, più o meno allo stesso prezzo, se non appunto per qualche piccola differenza. Quindi, sinceramente ci sono rimasta così, un pochettino con odio. Quindi ogni tanto, voi come sapete appunto di NABLA abbiamo un rapporto di etamo. Ecco, già l'impatto, il primo impatto non era stato così tanto bello. Ecco, secondo giorno, secondo giorno lo provo con la spugnetta, in particolare non ho preso la spugnetta di NABLA perché mi sembrava un pochettino duretta, mentre ho utilizzato questa qui di Mesauda, che adesso vedete totalmente zozza, che è una spugnetta molto bella, è una spugnetta morbida, è questa qui, molto morbida, è morbida come la Beauty Blender, che secondo me è perfetta per andare a stendere questo tipo di fondotinta. Questo fondotinta, infatti, steso con la spugnetta, è sicuramente una stesura migliore, decisamente migliore. Un pochettino, anche oggi ho notato questo, che si va a accumulare sui pori anche con la spugnetta, però già è una situazione diversa rispetto a stenderlo con un pennello perché riuscite un pochettino a lavorarlo. E quindi con la spugnetta, ovviamente, la stesura diventa sicuramente più semplice, può essere stratificabile, almeno con la spugnetta di Mesauda, anche se ho visto appunto delle scene in cui la spugnetta di NABLA tirava via del fondotinta, però comunque con la spugnetta di Mesauda il fondo è stratificabile. Non si raggiunge mai un'altissima coprenza, ma secondo me la coprenza è medio, cioè dal basso appunto tendente al medio. Stratificabile sì, ma non arriva mai a un'altissima coprenza. Infatti oggi, per esempio, ho fatto due strati, e non so se si vedrà dalla fotocamera, comunque le imperfezioni di qualche ne ho comunque, si vede lo stesso. Non ho voluto abbondare perché avendo una pelle semi decente in questo periodo, mi stava bene così come stratificazione. Infatti, secondo me è un fondotinta da giorno, non è un fondotinta da full cover, fa effetto bambolina, eccetera, eccetera, come può essere per esempio un Marc Jacobs, quello sì che è alta coprenza, alta coprenza a succo, definirei pure. Benissimo, quindi per quanto riguarda la stesura, no pennello, sì spugnetta, perché altrimenti vi giuro che è una cosa appunto inguardabile, e vi consiglierei pure di stendere questo fondotinta su un primer. Perché? Perché il primer livelle pori, mentre questo fondotinta viene definito come soft focus, in realtà in videocamera, secondo me l'effetto è molto bello, e anche in fotografia, dal vivo, se vi guardate con uno specchio ingrandimento, non è poi così tanto bello, perché secondo me un po' accentua la grana, accentua i pori, e secondo me si va a accumulare anche un po' sulle pieghette, io me lo vedo un po' accumulato qui, è sul bordi del naso, è una cosa appunto leggera, però qualcosa che se mi vai a definire un fondotinta con l'effetto soft focus, è una cosa che non mi aspetto appunto da questo fondotinta, ma lo aspetto da un fondotinta più secco, perché in effetti è un fondotinta che non si mattifica totalmente, cioè voi non ve lo sentite asciutto sulla pelle, ma è un fondotinta che rimane morbido, non avvertite perché è molto leggero, questo lo devo dire, però nonostante fissato, io me lo sento appunto morbido sulla pelle, non me lo sento troppo disseccante, questo da un lato secondo me è stata una mossa molto furba, perché può andare a richiamare una serie di pelli, può andare bene per una serie appunto di pelli diverse, che possono essere miste e grasse, ma possono essere anche secche, anche se la stesura, vi ripeto, con il pennello a me ha reso una pelle molto secca, una pelle visivamente molto secca, perché poi non ho una pelle così tanto secca, anzi per niente secca, soprattutto grazie al miracoloso Glow Tonic, e quindi quell'utilizzo col pennello mi ha fatto un effetto un po' brutto, mentre con la spugnetta devo dire che l'effetto non c'è, è un effetto, abbiamo detto, media coprenza e luminoso, infatti potete vedere come io sia abbastanza luminosa, e non è un effetto che mi dà fastidio, mi dà fastidio a fine giornata, quando sembra proprio che io ho l'olio, ho una pelle molto molto grassa, è proprio troppo luminosa, e ho provato questo fondotinta non solo con la cipria di Nabla, proprio per fare la prova, ma con altre ciprie, e quindi la cipria di Nabla da un lato lo frena, da un lato tende a mattificarlo però non troppo, perché questo effetto traslucido comunque si nota, mentre altre ciprie come quelle di Yuda lo frena ancora di più, quindi è più sebo-assorbente, però dall'altro lato io, nonostante non ci sia caldissimo, quindi prevedo che in estate questo fondotinta io non lo posso utilizzare, mi trovo lucida, ma tantissimo lucida, tremendamente lucida, e se già ho un effetto luminoso, che non mi dispiace, secondo me è più adatto all'inverno, che è in primavera e estate, con le temperature alte, è un effetto che a fine giornata sinceramente non mi fa impazzire, inoltre si accumula un pochettino, vi ho detto già, ai bordi del naso, si accumula sulle righette di espressione, mi si accumula un po' sulle sopracciglia, e infatti io credo che tenda un pochettino anche a smangiocchiare il prodotto per le sopracciglia, perché da quando utilizzo lui, anche il brow pot di MAC non mi regge appunto tantissimo, e sul naso l'effetto non è bellissimo, sul mio naso che è un po' particolare, e tende ad andarsene. Quindi, che cosa vi devo dire? Effetto liftante sui pori non esiste, effetto liftante in genere non esiste, se non visivamente in fotocamera, visto praticamente da lontano l'effetto è bello, è perfect complexion, non tanto perché la coprenza non è appunto elevatissima, ma è media, è un fondotinta appunto medio-leggero, è leggero, perché comunque io non l'avverto sulla pelle, quindi se non vi piacciono quei fondotinta troppo corposi, può fare sicuramente al caso vostro. Quindi, che cosa vi devo dire? Review positivo o review negativa? Sinceramente è un fondotinta che io consiglierei per il giorno, se non volete, se non avete altissime aspettative, soprattutto di durata, perché io a fine giornata magari non me lo ritrovo, né appunto qui, me lo ritrovo molto lucido, sul naso, ciao proprio, ciao ciao, non mantiene lo stesso effetto che io adesso, quindi tende a svanire, tende a scomparire nel corso della giornata, io dopo le 12 ore ne strucco un poco, non strucco tutto questo fondo, quindi sinceramente io non lo ricomprerei, perché è proprio un fondotinta che magari non fa al caso mio, né per la mia pelle, anche se nessun fondotinta, nemmeno il Dior Backstage, mi si lucida così tanto, né per la tipologia appunto, né per le mie grandi pelle, perché tende a accumularsi sui pori, che purtroppo ho, quindi non lo so, però che cosa vi devo dire, sicuramente questo è un soft focus, che dovrebbe migliorare appunto la grande pelle, però secondo me la grande pelle viene migliorata tantissimo della cipria, nella cipria infatti ho un'opinione totalmente diversa, la cipria di Nabla è per l'appunto questa qui, la Close Up Pressed Powder, quindi una cipria in polvere libera, anche questa costa una sassata, perché parliamo di 22 euro, secondo me è leggermente rosa, è leggermente più scura rispetto al fondo d'Intell 10, perché quando la stendo mattifica, però secondo me me la scurisce un pochettino la base, ma proprio un pizzichino, sono 11.5 appunto grammi, il rapporto qualità prezzo non costa pochissimo, è una cipria però bella, perché è una cipria molto molto sottile, è una cipria che è impalpabile, molto morbida, è questa che sì che ha un effetto piallante sui pori, infatti migliora tantissimo l'aspetto del fondo d'Intell 10, cioè una volta che voi andate a stendere il fondo d'Intell 10, magari notate qualche piccolo accumulo, a livello appunto del naso, a livello dei pori, e questa una volta che la stendete va a migliorare la situazione, secondo me va a fevolire quell'effetto di fondo d'Intell 10 rimane un po' più superficiale, lo va a fissare andando a rendere tutto più soft focus, quindi secondo me questa cipria ne vale veramente la pena. è una cipria che proverò sicuramente anche con altri fondotinta, l'ho utilizzata appunto prettamente con questo di Nabla che volevo sottolineare proprio da ben due settimane, non è una primissima impressione, non sarà nemmeno la review finale, perché voglio vedere come si comporta voi un po' più in là, però comunque sono due settimane che sto testando questo fondo d'Intell 10 tutti i giorni, anche a condizioni estreme, anche quando ho fatto più caldo, anche con l'umidità, e devo dire che, quindi questa è un'opinione abbastanza consolidata nel tempo. Ovviamente la cipra che io ho preso è la light, sono dimenticata di dirlo ma sembrava quasi banale, e devo dire che però di questa collezione mi piace tantissimo anche il pennello che non ho preso, l'ho fatta apposta per il contorno occhi appunto e per il pegging, perché è veramente morbido e non costa poi nemmeno così tanto. È una cipria sottile, è una cipra che illumina anche lei leggermente, quindi danno appunto insieme questo effetto soft focus, che è luminoso, che magari può essere anche un po' troppo per chi ha la pelle grassa. Questo vorrei appunto assolutamente sottolinearlo. Quindi bando alle ciance di questa collezione nuova, con lo Zap 2, non ho preso il correttore perché so che sulle mie occhiaie è troppo secco, quindi sinceramente è un accento anche se ha una texture molto molto bella, e quindi tirando le somme, fondo tinta sinceramente io non ve lo consiglio, se non ha pelli molto molto secche, se non con l'utilizzo di un primer, se non con delle accortezze, se non utilizzando una spugnetta, e quindi con una serie di accorgimenti, con una serie di sbattimenti vari, che se vi svegliate come me alle sede del mattino non sono proprio la cosa migliore da fare durante il corso della giornata, mentre cipria assolutamente promossa, a me piace, sta piacendo veramente veramente tantissimo. Quindi io spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero che vi sia stato di vostro credimento, purtroppo non vi ho potuto fare l'applicazione diretta, perché il tempo fa leggermente su Kifu, però nonostante questo spero che vi sia stato utile, e sempre se vi va, ci vediamo la prossima, ciao!